bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti nel video di oggi voglio parlarvi di nuovo della lachlan cup insomma il piccone frenetico qualche notizia è terminata in europa la sfida la coppa e vedremo come poter ottenere cosa succederà per chi ha fatto tanti punti e c'è anche un altro modo per cercare di portarsi a casa in anticipo il set di lachlan vedremo anche però delle immagini sul timer quello che arriverà al termine di questa season e ovviamente un sacco di leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta della nuova collaborazione di fortnite con niente poco di meno che disney una bellissima nuova collaborazione che però deve un attimo farvi stare con i piedi per terra ragazzi non è che troviamo adesso topolino che imbraccia il fucile a pompa e scappa scassa tutti no ragazzi la collaborazione con disney per adesso garantirà due mesi di accesso a disney plus a tutte le persone che faranno un acquisto in game dal papà papà fatemi ricordare dal 10 novembre quindi esattamente da oggi se non ricordo se oggi il 10 novembre fino a fine anno quindi fino al 31 ragazzi acquistando degli oggetti nello shop oppure utilizzando soldi veri per l'acquisto dei bundle che arriveranno potrete ottenere automaticamente due mesi di disney plus una cosa che comunque fa piacere avere assolutamente non credo ripeto che ci sarà più di così per quanto riguarda questa collaborazione però sempre meglio di niente e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo nuovamente farvi vedere o meglio parlarvi dell'ivi mortar una delle due nuove armi che stanno per arrivare e che molto probabilmente faranno parte dell'evento del galactus ve ne avevo parlato anche nel video di ieri ma purtroppo non ho avuto tempo di mostrarvele come vedete ragazzi che vi mortar mortaio pesante utilizza come munizioni il rocket 1,3 secondi il tempo di rilod quindi di ricarica un colpo per ogni caricatore e 100 di danni ai giocatori le immagini ragazzi sono davvero chiarissime perché sbam eccolo qua assomiglia a un mix tra una minigun e uno sparabende è una cosa molto molto curiosa queste sono le primissime immagini in game e come vedete da questa da questo primo piano probabilmente non avrà non sarà diverso da quello che state vedendo quindi aspettiamoci di vederlo proprio così la cosa veramente curiosa è quest'altro quest'altra fotografia che sembra essere una specie di telecomando un dispositivo quindi non so se per caso anche se lo vediamo così non lo potremo imbracciare ma andremo a metterlo a posizionarlo perché questo telecomando remoto assomiglia tanto a quello che già avevamo visto per il missile teleguidato non so assolutamente altro non ci sono video non ci sono spezzoni di gameplay non appena ce ne sarà qualcuno lo saprete anche voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi appunto mi riferisco come anticipato alla coppa di l'aclan il pickax frenzy quindi piccone frenetico voglio solo dirvi che per avere la possibilità di ottenere in anteprima il bundle dovresti aver fatto almeno 509 punti in europa questo è il minimo da fare visto che ieri si è conclusa la cap però voglio ricordarvi un'altra cosa se avete tempo fate un salto nella pagina twitter ufficiale di l'aclan perché dovresti avere ancora una o due orette per commentare il suo ultimo tweet o comunque uno degli ultimi dove dice che avrebbe estratto 25 persone a caso che avrebbero risposto e retweetato appunto quel suo post e avrebbero ricevuto gratis il bundle quindi se avete dieci secondi da perdere fatelo magari siete fortunati e mi ringraziate perché avrete ottenuto in anteprima il suo set che è comunque molto molto carino e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sono delle immagini davvero molto belle quelle che vi sto facendo vedere le prime immagini da un parte di un giocatore uno streamer che se dovrebbe essere spagnolo comunque roba del genere che ci fa vedere fortnite sulla ps5 la cosa che volevo farvi notare era un argomento di cui abbiamo già parlato almeno un mesetto fa le volumetrix cloud quindi le nuove nuvole ne avevamo proprio parlato tantissimo perché fortnite ci teneva a far vedere come fosse riuscito a replicare in maniera praticamente reale tutta la parte del cielo e tutta la parte dell'acqua ovviamente senza tralasciare gli effetti grafici degli alberi dell'erba del vento e queste cose e le vediamo veramente molto molto chiaro in queste immagini perché le volumetrix cloud sono tanta tanta roba vi ricordo anche che non so bene se con la prossima season o comunque con i prossimi aggiornamenti dovrebbe cambiare anche tutto l'effetto dell'acqua quando ci passiamo attraverso o con un veicolo oppure anche nuotando vedremo proprio la scia del personaggio sarà un effetto meraviglioso perché riprenderà esattamente quello che accade in realtà nella vita vera con l'acqua e chiudiamo gli argomenti di oggi facendovi vedere una delle immagini più belle in assoluto che possiamo trovare deve essere assolutamente convertita in una loading screen perché ieri è arrivato ghost rider tutto il set completo davvero bellissimo meraviglioso e con ghost rider vi ricordo che mancano ancora due skin all'appello che sono in realtà state già liccate tra virgolette nelle copertine dei fumetti marvel oramai usciti un mese e mezzo fa come vedete hanno tutti il crossover con fortnite l'ultimo in basso di questa immagine è proprio ghost rider ma all'appello manca venom come vedete che sappiamo essere già confermata come skin anche se in realtà non abbiamo ancora visto nessuna immagine e capitan marvel quindi la ragazza con i capelli biondi e la tuta di capitan marvel non si sa invece assolutamente nulla quindi potrebbe essere stato solo un disegno noi incrociamo le dita e vediamo di aspettarci qualcosa ancora da questa lunghissima collaborazione di fortnite con marvel insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ricordo velocemente questa che è una legacy che potete ottenere indossando il costume di ghost rider e guidando un veicolo grazie mille per aver guardato questo video mi raccomando un bel like non dimenticatevelo iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 il live su twitch ciao